bentornati su my football jersey quella che vedete è una maglia retro del portogallo maglia di casa del 2018 la maglia ovviamente di ronaldo il nostro corso gratuito www.mesmerism.info cosa ne pensate a me piace molto devo dire che di quelle di casa del portogallo è una delle più belle degli ultimi anni sicuramente ottima qualità bellissimo la differenza di rosso che c'è tra le maniche e diciamo il tono principale ordini tempi di spedizione il costo l'avete visto decidete voi cosa fa ora vi lascio alla parte finale prima però mi raccomando iscrivetevi al canale per oggi è tutto alla prossima